A Dana White non piace essere criticato, non piace che venga criticato il prodotto UFC, se anche lui critica qualcosa non gli piace comunque che lo facciano gli altri specialmente i media e i reporter e questo lo sappiamo e abbiamo visto un altro esempio clamoroso di questa cosa durante la conferenza stampa post UFC 310 perché abbiamo parlato della card, la card è stata quello che è stata, è stata quello che ci si aspettava per certi versi peggio, per certi versi forse qualcuno ho visto nei commenti che si aspettava addirittura peggiore di così, in ogni caso non è una card che si è piaciuta particolarmente con delle performance e delle situazioni che assolutamente vanno viste riviste e criticate e analizzate con occhio molto critico, ecco hanno fatto delle domande a Dana White, Dana White ha avuto un po' una reazione alla Dana White con questo tipo di domanda, questo tipo di linea di domande in generale perché si è proprio lamentato in generale delle intenzioni del reporter in questione, andiamo a sentire un po' per quanto riguarda UFC 310 cosa ha detto. Anthony Smith, you know you've made a known that you thought Chris should have hung it up a couple fights ago, Anthony you know couldn't really hold in the tears when he was walking out and then Clay is I think 40 something, what do you do with those three? Attenzione qui. E qui subito intanto, prima cosa, ci sono state sconfitte di veterani, Clay Guida, Anthony Smith, Chris Wildman e viene chiesto a Dana White che cosa gli consiglieresti e che cosa vorresti che facesse, ho visto che già per esempio per Chris Wildman avevi detto che secondo te dovrà ritirarsi un paio di match fa, Dana White, Lapidario, dovrebbero ritirarsi tutti stasera. E qui, anche qua, subito, gli viene chiesto, quindi tu non gli offrirai più dei match, la UFC non gli offrirà più dei match e lui dice dovrebbero ritirarsi stasera. Quindi praticamente un po' passa la palla a loro e la lascia a loro. Attenzione qui, è qui e dove Dana White perde proprio un po' la calma, non un po', perde la calma. Cosa ne pensi del match tra Bryce Mitchell e Cron Gracie? Abbiamo già detto nel nostro video di opinione, in generale Cron Gracie non è di casa in UFC assolutamente per quel poco che c'è stato e l'abbiamo visto ancora una volta. Questa domanda scateneva le ire di Dana White. Cosa ne pensi della performance di Cron, che appunto è molto monodimensionale evidentemente ed è stato spento stasera, e del suo futuro? Cosa ne pensi del suo futuro in UFC? Ecco, allora qua già Dana White prende il tempo e dice, aspetta un secondo. E qui Dana White dice, quindi tu praticamente mi stai dicendo, nel suo ultimo match era sembrato limitato Cron Gracie, stasera uguale, quale è il suo futuro? E questa è la tua domanda. No? Cosa pensi? Io pensi che aveva un miglior plan di game plan che la combina che aveva contro Charles Jordan. Qui il reporter dice che secondo lui ha fatto meglio in questo match con Charles Jordan. Eccolo qua. E qui Dana White dice, quindi praticamente tu mi chiedi, cosa ne pensi delle sconfitte di Cron, di Smith, di Guida? Cosa ne pensi di Cron Gracie che è sembrato limitato? Fa, non mi piace dove mi stai portando. Non mi piace quello che stai facendo, perché tu sai quali sono le risposte alle domande che stai facendo, ma probabilmente vuoi che io lo dica a voce alta per qualche motivo. E qui, veramente lapida il reporter dicendogli, hai qualche altra domanda, magari qualche domanda che sia positiva, o vuoi semplicemente che io ti ripalate di merda su tutti i fighter che hanno combattuto in questa cazza sera? Cos'hai pensi di Movzar? Grande performance di Movzar, congratulazioni a lui. Quindi Dana White, che si è ancora contenuto per quello che poteva succedere, ma ha lapidato letteralmente, ha sbianato il giornalista che gli ha fatto quella domanda. Sono situazioni che appunto a Dana White non piacciono tanto, però sono domande che a volte vanno fatte. Fateci sapere nei commenti che cosa pensate, sia dei match e delle situazioni citate dal reporter, e anche la risposta di Dana White, che cosa ne pensate di questo suo modus operandi a volte quando viene criticato, viene criticato il prodotto della UFC in queste situazioni. Grazie a tutti.